eccoci qua ragazzi oggi vi parlo del ltl chop shop ecolizzatore è ovviamente versione plug-in fatto e commercializzato sempre da plug in alliance e realizzato vedete plug in realizzato credo da brainworks per plug in alliance appunto è la rivisitazione e l'emulazione diciamo software via algoritmo di un ecolizzatore vero quindi questo ltl chop shop ecolizzatore non è un nome inventato ma è un ecolizzatore vero dell ltl chop shop che è il marchio fabbricante e sta appunto per ecolizzatore esce come rec mini rec cioè rec serie a epi quelli montati in poche parole sui sui su quei rack tipo epi quindi i mini rack verticali è un ecolizzatore che spesso vi viene utilizzato su suoni che contengono e basse frequenze infatti vedete rapporto basse alte c'è un locat filter locat vuol dire taglia basse quindi passa alto ai pass e un ai cat che poi vediamo con risonanza e anche locatari può avere o meno risonanza è un ecolizzatore che nasce praticamente con lo scopo di essere posizionato su suoni soprattutto di bassi e kick quindi suoni che contengono basse e bassissime frequenze per cercare di farle incastrare fra di loro quindi cercare di lavorare il suono in modo che i suoni si incastrino meglio chiaramente ma non solo anche per cercare di pulire un po le bassissime frequenze e far risultare e risaltare meglio un suono rispetto al suono entrante al suono originale e vediamo come bando alle a troppe ciance e parole varie vediamo come lo visualizziamo così lo capiamo meglio armonicamente vedete è acceso così è spento si spegne l'iconcina qua che diventa blu acceso spento vedete lo accendo e vedete non introduce troppe armoniche anzi non non introduce proprio come vedete in questo momento è tutto spento perché questo è il tasto per di spegnimento e accensione generale questi tre sono i tasti per l'accensione delle tre sessioni vedete focus locat e icat allora andiamo ad attivare il focus vediamo subito cos'è tanto vediamo che non aggiunge armoniche attiviamo il locat non aggiunge armoniche attiviamo l'icat non aggiunge armoniche quindi è un plugin pulito e ripeto non per raggiungere armoniche ma per filtrare le bassissime rendere un suono migliore io vi ho parlato di basso e chi può essere usato su qualsiasi in realtà strumento che contenga basse bassissime anche una chitarra elettrica un gruppo di chitarre elettriche se avesse moltissime basse barre barra bassissime potrei lavorarla con il chop shop ovviamente allora andiamo qui vediamo che spengo accendo elettrocardiogramma piatto attivo il focus si crea questo leggero boom e questo leggero cat qua ma appena appena proprio una roba impercettibile e sono nella sua posizione standard questo cos'è è un tilt è un filtro tilt il focus centrato su una determinata frequenza che le vediamo subito se aumento verso destra aumenterò i treble vedete gli alti se aumento verso sinistra aumenterò i bassi e di conseguenza si abbasseranno gli alti verso destra aumento gli alti di conseguenza si abbassano i bassi intorno a che frequenza vedete la riga dello zero qua andiamo l'intersecare con la nostra curva intorno ai 400 cos'è 408 409 con il tasto shift spento con il tasto scusate acceso col tasto shift spento vedete che quando lo attivo si illumina la scritta così è spento così acceso in spento la nostra frequenza sarà di intorno ai 1313 1314 col tasto shift attivato nella sposta verso il basso da 1313 14 mi va a 408 quindi da mille tre mi va qua mi si accentra un po di più quindi con shift acceso siamo intorno a una frequenza centrale che corrisponde a punto 413 se tolgo shift mi viene spostata intorno ai mille tre questo è importante da sapere perché sposto la frequenza di intervento e vedete che così ero in aumento delle alte e abbassamento delle basse se vado il contrario alzo le basse e abbasso le alte lo zero qui siamo sempre intorno a quella frequenza 413 se faccio shift mi va intorno ai mille tre e ventiquattro e mi rimane intorno ai mille tre e ventiquattro ok si in da un diciamo con il potenziometro girato a destra sia col potenziometro girato a sinistra con shift spento mi trovo intorno a quella che vi ho detto ai mille tre quindi più verso le medio alte con shift acceso mi trovo invece più verso le frequenze centrali 412 hertz e questo abbiamo capito cos'è spegniamo poi abbiamo guardiamo il light cat ai cat come dice il nome stesso taglia alte ai cat le alte me le tagli ovvero passa basse andrà a tagliare questa porzione di frequenze mi farà passare le medio basse ovviamente e che anche qui ci sono vari potenziometri vari pulsanti che vediamo cosa servono allora attivo il light cat e vedete che è un taglia alte e fa passare le medio basse come vi dicevo qui sia nella posizione più bassa qui sia nella posizione più alta vedete 12500 abbassiamo vedete che taglia 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 fino alle 250 vedete che però nell'indicatore quindi la corona qua esterna con queste righine rosa viola abbiamo una scritta più esterna 250 qua a sinistra e una scritta più esterna sulla destra qua di 12 5 e una scritta sinistra più interna nera 500 una scritta a destra interna nera 2005 perché perché io attivo o disattivo il filtro come vedete ma poi qui ho 0 5 per vedete se schiaccio 0 5 per quindi così non è schiacciato perché la scritta è nera se lo primo diventa rosa vedete che infatti è diventata rosa quindi quello che dovrò guardare è la scritta rosa quindi andrò attivando lo 0 5 da 12500 a 250 infatti vedete taglia intorno ai 250 comincia a tagliare prima però diciamo la sua frequenza di intervento è quella e si va a 12500 mentre se lo disattivo valgono le scritte nel range nero quindi da 2500 a 500 scusate non è 2500 secondo me è 25000 qua da 25000 a 500 perché vedete che va oltre i 20.000 ho sbagliato io chiedo scusa non è 2500 ma è 25000 a 500 mentre quando lo premo va da 12 5 vedete che comincia a tagliare prima infatti a 250 mi sposta il range di frequenze e ve lo fa vedere qua range rosa e range nero range rosa è quando ho attivato e lo 0 5 per diventa rosa disattivo lo 0 5 per è nero mi riferisco al range delle frequenze nere 0 5 per vuol dire che devo moltiplicare per 0 5 quindi devo dividere per 2 in poche parole infatti da 25000 va a 12500 da 500 va a 250 ho diviso per 2 moltiplicare per 0 5 come dividere per 2 e questa è la prima cosa e vedete che la pendenza non cambia cambia solo il range di frequenze con 0 5 attivato disattivato mentre se schiaccio res e vedete che adesso è nero vuol dire che non è attivo lo premo res diventa rosa mi crea il bump mi crea diciamo il gomito io lo chiamo bump ma è il gomito mi crea questa curva appena prima la frequenza di taglio e la ripidità della curva di taglio aumenta perché vedete così a questa inclinazione concentratevi sull'inclinazione della curva così mi si raddrizza di parecchio quindi vuol dire che il taglio diventa più rigido più severo però prima mi introduce questo gomito mentre qua il taglio diventa più dolce ma non ho il gomito ok questo è l'iCut lo disattivo vediamo il low cut che è un po' simile all'iCut ma con una funzione ulteriore che nell'iCut non abbiamo nel low cut invece l'ha messo andiamo per ordine anche qui abbiamo il potenziometro dove scegliamo la frequenza da 20 a 530 da 530 a 20 lo attiviamo da 20 a 530 da 530 a 20 vedete qual è la pendenza secondo me è circa un 12 18 decibel d'ottava poi con il more premuto vedete che c'è un more che è diventato rosa quindi è premuto se disattivo il more mi rende ancora più meno ripida diciamo quindi più delicata più dolce la curva infatti vedete se io taglio ipoteticamente ve lo faccio capire così mettendo il punto qui minimo intorno ai 50 hertz che corrisponde proprio alla riga dei 50 hertz guardate dove inizia a tagliare inizia a tagliare a 400 a 501 se vado a schiacciare il more inizia a tagliare qua l'ha spostato quindi vuol dire che diventa più ripida la curva rispetto qua vedete qua è più blanda c'è un raggio di curvatura maggiore vuol dire che va giù con meno pendenza così un raggio di curvatura minore vuol dire che diventa più ripida quindi con il more rendo più ripida rendo più netto il taglio che vado a fare lo slope in poche parole sto attivando uno slope sto aumentando i decibel di taglio come se avesse una curva meno 18 decibel d'ottava che diventa meno 24 o ancora maggiore diventa più ripida ok con il more poi cosa succede che con il boom invece gli vado a dare la ressonanza mentre nelle alte schiacciavo mores e si creava quella protuberanza quel boom quel ginocchio appena sopra la frequenza di taglio qua è la stessa cosa solo che lo regolo io mentre la schiacciavo solo un pulsante qua lo posso regolare l'intensità la posso regolare vedete che ho il more inserito se lo disinserisco si posso anche qui aumentarlo un po' però vedete anche con tutto il massimo creo appena appena questo boom qua proprio un boom piccolissimo di 0,4 decibel 0,5 nel punto più alto perché non ho attivato more non ho attivato la pendenza della curva la maggior pendenza della curva schiaccio more e appunto infatti la curva diventa più netta più nitida e allora vedete che anche il suo boom si fa sentire di più e con questo sempre lo regolo ok tolgo il more più delicata e mi crea il boom il ginocchio ma poi non è finito qua quindi io potrei tagliare dire a 60 tagliami dagli un po' di questo ginocchio di questo boom per aumentare poco prima della frequenza di taglio le mie frequenze giusto creare questo gomito qua perché nel mio suono sta bene questa impostazione ma non è finita qua ci dà questo plugin la possibilità e secondo me ce lo dà solo il plugin nell'ecolizzatore vero non credo che ci sia questa funzione questa è una funzione che ci regala il brineworks o la plugin alliance chiamiamolo come vogliamo lo rider che è questo sulla destra che vi sto indicando col mouse cioè si attiva questo pulsante lo rider diventa rosa e vedete che voi dite ma come mai ero qui in taglio attacco lo rider guardate mi inverte la curva esattamente dove tagliava prima effetto specchio speculare me l'inverte stesso boom di prima però vedete prima andavamo in là con la curva adesso andiamo verso le basse quindi taglia via le alte le medio alte e mi lascia le basse perché? perché con lo air vedete che diventa blu lo cioè bassissime e la scritta lo rider lo rider diventa rosa mi inverte e mi dice in questa porzione di basse io ti creo e ti do anche la possibilità di miscelare con un dry wet così è tutto dry così è tutto wet così miscelo a mio piacimento delle armoniche che creo io plug in in questo range di frequenza quindi da 133 con questa pendenza questo boom qua e questo ritorno fino allo zero di frequenze quindi con questo vedete ve lo sto pittorando con la punta del mouse con queste frequenze mi crea delle armoniche lungo questo range di frequenze dai 120 130 rotto allo zero che mi vado a miscelare ripeto col dry wet al mio suono originale il cui mio suono originale è così però ok dove avevo tagliato qui e facevo passare questa porzione schiacciando l'over lui mi tiene a mente l'impostazione che ho dato così senza lo rider attivo ma attivandolo mi va a creare delle armoniche lungo questo settore lungo questo range di frequenze quindi ho questo suono qua tagliato qua e con questo boom con l'aggiunta di armoniche nella fascia bassa quindi riesco ad arricchire il mio suono di frequenze basse ma con l'aggiunta di armoniche con l'aggiunta di armoniche al mio suono che vuol dire che nel mio suono originale non c'erano me le aggiunge lui è una funzione veramente interessante poi ovviamente ce la possiamo miscelare a tutta canna a zero o una via di mezzo fra i due e me lo va ad aggiungere il mio suono dopo nel prossimo video ve lo faccio vedere ovviamente insieme agli altri ecolizzatori di plug-in alias che vi sto spiegando e illustrando con il plug-in doctor perché è veramente molto interessante lo vediamo soprattutto su un suono di kick e di bass per farli incastrare meglio ok anche per oggi è tutto spero di esservi stato utile alla prossima ciao a tutti